E per chi si fosse messo in collegamento solo ora, e siete in tanti, sappiate che ci sono stati qui gli Area, un evento epocale, tanto che è venuta voglia anche a noi di suonare come gli Area. È vero ragazzi? Sì. Avete voglia anche voi di suonare come gli Area? Sì, è vero. Sì, è vero. Dai, tentiamo, dai. Scusa, posso? Anche io vorrei suonare come gli Area. Anche Sergio, antibiotici? Ma certo, tutti quelli che vogliono suonare come gli Area sono i benvenuti sul palco del Musica. Vieni, Sergio, vieni con noi. Sono molto contento, io vado a fare un piccolo seminario su Barry White. 5 minuti. Buon conto, grazie. Buon conto, grazie. Grazie. Buon conto, grazie. Buon conto, grazie. E la gente ascoltava Un pubblico costituito da giovani comunisti, cappelloni e drogati Come tutti sanno il pubblico fascista non ha mai capito un canto di musica Sì però i compagni quando c'è da tirar fuori i soldi Tutto tace Se c'è una cosa che mi dispiace E che non ne ho mai visti davvero All'epoca ero solo un bambino Quelli da tutti di cura di sei miei genitori mi portavano al concetto Degnare a Tanti bricchettoni Tanti comunisti Troppa gente che non paga il biglietto Mancano i provetti alla fine di quelli maghi Di strumenti Tanti bricchettoni Don 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 Sarebbe un casino, questo lo puoi cantare senza essere Stratos, questo lo puoi suonare senza essere Tophani, Fari, Senni, Favolazzi, Cambiozzo, senza essere Diarea.